La grande pallavolo femminile dia 1 va di nuovo in scena al Palarevat di Via Goldoni. La Minetti Vicenza è tornata a casa per te. Vieni a tifare le tue campionesse bianco-rosse e compra un abbonamento per la 1. Il secondo te lo regaliamo noi. Vieni al Palarevat, telefona allo 0444 92 55 37 o invia un'email a volleychiocciolavolleyvicenza.it Torna anche tu a tifare per la Minetti Vicenza dia 1. A grande richiesta, l'offerta è valida fino al 31 agosto 2008.